Siamo di nuovo su Napoli MC Hanno tirato la cacca tossica nella lobby Non vi posso far vedere niente per ora Signori, vi presento Bedwars Ma chiama l'armaiolo? Cosa vorrà mai dire? Cosa? Armeria Bedwars, ma siamo a Napoli, più o meno Abbiamo diverse armi E abbiamo anche delle granate Ma un sacco di tipi di granate diverse Signori Abbiamo le armi Voi non avete idea di che figata è Tra l'altro, vi ripeto, questo qui E uno prova Se vi piace come video in sé Farò poi con altre mod O con altre armi proprio in generale Veramente Sparano Oddio Mi spara Da lontanissimo mi spara quel È pazzo Dio mio È pazzissimo Sono pazzi, sì, sì, sì Qua si scopre il vero essere di una persona Se uno è forte su questa modalità Ha qualcosa da rivelare nella vita Ma che fa? Mi puscia Mi puscia Dai, vieni Ma di voi Che hai fatto? Sei sdraiato No, no, no Sei sdraiato Che figata No, non l'ho preso Dai, ma quello si è messo L'ho sdraiato Provo a pusciare un po' Ci provo un pochetto Ok Mi avvicino un po' Oh, no, no Mi ha distrutto Oh Ok No Ma è incazzatissimo Compro, compro questa che c'è pure il mirino Compro questo Ok Cerchiamo giustamente l'arma Immagina poi fare altri video con altri modi No, ma è fortissimo Ma come fa? Ma chi? Ma su Ma me su è pazzo Ok Oddio Guardalo Craft Six Age Capodanno Ok, è morto Eh no, raga Però mi ha rotti il letto Ho sentito una bomba È saltato a tirare su Warplay Sì, sì Sto stai Oddio, sono passato dentro il fumo di una bomba Che mi ha fatto saltare in aria? No, Fabio Devi farti i cazzi Tu Fabio, si è messa a miuccando la gente Come si chiama la mod? Eh, non lo so Minecraft No Oddio Che si sentono pure gli spari lontani Ho paura che mi sparino malissimo Devo ricaricare No, mi voleva tirare la granata Mi ha mancato Ah sì? È piaciata la bomba Che qua No, mi ha No, non ci credo Amosos È difficilissimo comunque, raga Sono molto complicate le baddors così, vero? Sì Ok Vedi la bomba È ancora vivo Ok Ma che ha tirato un fumogeno Vabbè, gli faccio il letto Sono un pro player Forte del player Mi muovo lo sparo Mi muovo lo sparo C'è mezzo Ok Oddio, quanti armi aveva Oddio Ma aveva scioppato un botto di roba Vai, vado di questo invece a sto giro C'erò i colpi Un solo caricatore No, me ne servono altri Ah Ah Non lo vedo Da dove mi sparano Da dove? Aspetta un attimo Ma da quanto lontano mi spara quello? C'è preso l'arma con il cecchino Per questo riesce Fuggi Ok Tire sotto mila Non riesco a muovermi Non mi fa muovere Ok Una sorta da una mira più brutta della mia Cotto Ok, ok No, come non detto Direi proprio come non detto La massa grave Dove non per il dato Via da flash Ah Marameo Lui ora spona senza armi Non armi Passu l'armatura in diamante Passu, vieni qua Passu Passu Vieni qua Passu Hai soltanto tre cuori Passu Le bombette Passu Marameo Guarda quanta roba c'aveva Compriamo Allora Prendiamo queste E prendiamo Prendiamo anche Queste Le granate a gas Non ho idea di cosa possono fare le granate a gas Ma secondo me sono un botto fighe Detto questo Abbiamo tutto Siamo preparati Siamo pronti alla guerra Potrei farmi protta Che c'è me la vado a fare Non si sa mai Secondo me Io c'ho paura di Stortenald 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 ha anche un altro traiardino Che traiardo ovunque Secondo me Pazzo Comunque l'avete lasciato like? L'avete lasciato like signori? Direi di lasciarlo Dobbiamo dominare le bedwars di Napoli MC Per forza Oh eccolo qua Che fa? Ok Star ma comunque c'è una mira assurda E' precisissima Ma COD cosa? COD? No grazie Gioca a Minecraft Madonna Ma c'è una mira precisissima Mi avvicino Bomba Ok Diamo Un'altra bomba Bomba No ancora Si è chiuso dentro Va bene Procedo a rompere il letto Giù raga ma Ti immerge un botto sta roba Ah Napoli Easy Easy Egy Posso sempre diventare a pubblico No raga Almeno con le mod No Chi è il blu? Facca leggere il nome Eh passo No No E' la mia film Ok Facciamo così Almeno mi posso subito difendere Posso difendere fin da subito Eh Ecco E' pazzo E' pazzo Mi sta provando Ok Lo sto Lo sto facendo Gli sto facendo un botto male Gli sto facendo un botto male Oddio Oddio Ma cosa sto facendo? Ok No ho finito di colpire Guarda Guarda come sto in mezzo alle frasche Dimmi se non sembro un code player Easy Easy Passuchillato Easy No ma mi sparano da lontano Mi spara qualcun altro No mi sono fatto saltare in aria Sono mister Mi è stato ucciso da solo mister nomi No Oddio mi tira le bombe No Ok Si Ci è arrivato No Che ci fa qua? Che ci fa qui? No No Swirlp Oh Oh Sono pazzo L'ho distrutto Mamma mia Che mi lasciò Che mi lasciò Si corre Fugì Ok Mi ha lasciato andare Mi ha lasciato andare Gli corro in base Si va Si va Si va Si va Si va Ah no Appena perso il letto Ok Ottimo Invece lo sentite lui che sta mangiando No mi sparano da lontano No 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 mi sparano da lontano Copertura 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 Ok Ha sfondato i vetri sparando Ma È una figata assurda però Spero che vi sia piaciuto Che vi siano piaciute queste bedwars Like Per appunto Un video Con altre mod O con altre armi Magari anche armi futuristiche Ci si becca domani alle 14 Un nuovo video Bella Ciao 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 Grazie a tutti.